bravo non devi tre terzi ok faccio molto bello dall'altra mano due terzi e tre terzi facciamo un tag buongiorno ma perché ci devi fare la schiena non so ti vedi? ti vedi? Sì, 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 sì. Vieni ora qui sulla croce, piano eh, pianino eh, non deve entrare a 2.000 eh, apri le spade e metti da giallo, allontano e stavano dalla patina. Ok, no, no, di pezzi, non ti arrabbiare, di pezzi, più decisione, specialmente sul primo salto. Ecco, stiamo sottocciando, voglio vedere se è pronto, ok. Croce, di nuovo, ok, guardami ora.